Abbiamo visto nella lezione precedente alcuni aspetti di insieme. Relativi all'inizio dell'età moderna. Un grande moto di cultura come l'umanesimo, il suo confluire nel più generale moto di civiltà al quale diamo il nome di rinascimento, le grandi scoperte geografiche iniziate da Cristoforo Colombo. Su questa base abbiamo anche introdotto le due categorie della modernità e della mondialità, quali nuovi parametri storici determinati dall'avvio della stessa età moderna. Abbiamo detto inoltre che l'età moderna segna pure il graduale avvio al primato europeo che nel giro di qualche secolo vedrà l'Europa costituirsi come dominatrice del mondo, nel quale diffonderà via via la sua forma di civiltà, le sue idee, il suo modo di vivere. Oggi tratteremo di un altro aspetto fondamentale nell'avvio dell'età moderna e relativa proprio a questa progressiva egemonia mondiale dell'Europa. Tratteremo cioè dell'avvento stabile e irreversibile di un sistema degli Stati europei. E' opportuno però a questo scopo definire con una certa chiarezza che cosa dobbiamo intendere per sistema di Stati. Una buona definizione può essere intanto questa. Un gruppo di Stati forma un sistema quando le loro relazioni non subiscono interruzioni e le posizioni, le condizioni e l'azione di ciascuno degli Stati del gruppo sono costantemente seguite e valutate da tutti gli altri sicché anche le minime variazioni dei loro rapporti, gli accordi o gli scontri che nascono fra loro, le perdite o gli acquisti di territori o di altri vantaggi, gli incrementi o la diminuzione della loro potenza suscitano la immediata reazione favorevole o negativa o semplicemente non ostile di ciascun altro Stato del gruppo. In un sistema di Stati c'è dunque sempre un certo rapporto di forze che può essere favorito o alterato dalla azione di uno o più membri del sistema determinando così una reazione quasi automatica di tutti gli altri o di una parte degli altri. Essi possono quindi avere alleanze, paci, guerre totali o parziali che determinano le vicende del sistema. Nell'Europa alla fine del 400 le relazioni fra i diversi Stati specialmente dell'Europa occidentale e meridionale erano frequenti e di antica data, esse non erano però costanti e generali. Ciascuna parte del continente formava un sistema a sé, così gli Stati della penisola iberica in cui da molti secoli si affrontavano potenze cristiane e potenze musulmane, così lo spazio della monarchia francese che lottava contro i grandi complessi feudali riluttanti alla sua egemonia e fra i quali in ultimi primeggiavano i ducchi di Borgogna, così lo spazio dell'arcipelago britannico dove si contrapponevano soprattutto Inghilterra, Scozia e Irlanda, così l'ampio spazio germanico in cui il potere del sacro romano impero si era ridotto di molto e avevano preso un rilievo autonomo gli stati territoriali formati da varie dinastie, soprattutto Giasburgo in Austria e alcune potenti città riunite per la massima parte nella Lega Anseatica, così lo spazio italiano sul quale l'autorità dell'impero che aveva la sovranità nominale della parte centrosettentrionale si era ridotta ancora di più che in Germania e nel quale primeggiava un gruppo di 5 stati, Milano, Venezia, Firenze, Roma e Napoli e così ancora lo spazio danubiano e centroeuropeo in cui spiccavano le due grandi monarchie della Polonia unita alla Lituania e dell'Ungheria, così infine lo spazio baltico e scandinavo in cui spiccavano Danimarca e Svezia. Altre volte si erano avute, come abbiamo detto, interferenze talora assai forti fra questi vari spazi europei. Facciamo solo due esempi. Uno, nel 1214 una grande alleanza formata dal Papa, dal re di Francia Filippo Augusto e dal giovanissimo re di Sicilia Federico di Svevia, con i suoi partigiani germanici, candidato pontificio alla corona del sacro romano impero contro l'imperatore in carica Ottone IV della casa di Brunswick, contro il re d'Inghilterra e contro il conte di Olanda. L'alleanza franco-svevo-siciliano-pontificia vinse con la battaglia di Buvin nel 1214 e il giovane re di Sicilia divenne l'imperatore Federico II al posto di Ottone IV di Brunswick. Ma poi l'emergenza che aveva determinato l'alleanza cessò e l'alleanza stessa si dissolse senza dar luogo al formarsi di alcuna tradizione favorevole o sfavorevole ad essa. Secondo esempio. Lo spazio francese e quello inglese erano stati congiunti per secoli a causa del fatto che i sovrani inglesi erano anche contemporaneamente vassalli del re di Francia dove possedevano vasti e importanti domini, vassalli spesso più potenti del re francese. Ma solo in alcuni periodi, ossia quando i contrasti tra i re di Inghilterra e i re di Francia assumevano una maggiore violenza, si poteva parlare di un unico sistema franco-inglese di rapporti fra potenze. Ciò accade soprattutto durante quella che con molta approssimazione viene definita guerra dei cento anni fra il 1337 e il 1453 conclusa la quale con l'espulsione dei sovrani inglesi dallo spazio francese la Francia e l'arcipelago britannico rimasero fra loro sostanzialmente separati. Nel 1494 si ebbe poi a opera del re di Francia Carlo VIII la spedizione destinata, nelle intenzioni del sovrano francese a riportare il regno di Napoli nelle sue mani in quanto egli era erede dei titoli della Casa d'Angio un ramo collaterale della Casa Reale di Francia che aveva regnato su Napoli dal 1266 al 1435. E furono appunto gli sviluppi di questa decisione di Carlo VIII a segnare di fatto l'atto di nascita del moderno sistema degli Stati europei. La sua decisione di scendere in Italia è stata considerata per lo più come dettata da un fumoso sogno di gloria tanto più che essa avrebbe dovuto svilupparsi ulteriormente secondo piani ancora più fumosi in una crociata e in altre conquiste. In realtà però quella decisione esprimeva la sovrabbondanza di forze e di energie di una Francia rinsaldata nella sua struttura politica e territoriale dopo la vittoria nella guerra dei cento anni e grazie all'opera di un re come Luigi XI, padre di Carlo VIII. L'Italia appariva inoltre come uno spazio facilmente penetrabile dall'azione di una grande potenza militare come la Francia con la quale nessuno degli stati italiani poteva confrontarsi. Esisteva, è vero, una alleanza di cinque maggiori stati italiani quelli che abbiamo prima nominati, la cosiddetta Lega Italica ma la tradizione italiana mostrava che le leghe della penisola si potevano facilmente scompaginare e non duravano a lungo e ciò senza contare che in quel periodo il duca di Milano Ludovico Sforza, detto il Moro, aveva usurpato il trono al nipote determinando una fiera avversione nel re di Napoli la cui figlia era madre del giovane Sforza spodestato dal Moro e quindi nipote anche del re di Napoli. Nacque perciò la fama che lo stesso Moro avesse istigato Carlo VIII a rivendicare alla sua casa il trono di Napoli per eliminare così eventuali azioni dei sovrani napoletani in favore del nipote spodestato. Quale che fosse però la condotta del Moro il re non aveva alcun bisogno, il re di Francia Carlo VIII di essere incoraggiato a una impresa che appariva congrua alle forze e all'energia di cui il suo paese non solo, come si è detto, disponeva ma era anche consapevole e orgoglioso. Del resto non si trattò di una impresa sconsideratamente preparata. Accanto a ingenti e potenti forze militari se ne curò infatti a fondo l'aspetto diplomatico cercando anche con sacrifici territoriali di ottenere per essa, se non il consenso almeno la neutralità dei paesi che avrebbero potuto attaccare la Francia mentre Carlo VIII col suo esercito era in Italia soprattutto i due reami iberici di Aragona e Castiglia e l'Inghilterra. La spedizione in Italia condotta su queste basi fu una passeggiata militare partito da Lione nell'agosto 1494 Carlo nel febbraio 1495 aveva già conquistato Napoli. Solo allora gli stati italiani si mossero e attivarono la Lega Italica temendo di essere imbottigliato nella penisola Carlo dopo solo tre mesi lasciò allora Napoli e l'esercito della Lega lo intercettò a Fornovo sul Taro nel luglio 1495. Gli italiani rimasero nella battaglia padroni del campo ma Carlo VIII conservò l'esercito quasi intatto e lo ricondusse in Francia. La situazione sembrava quindi perfettamente ristabilita due dei cinque maggiori stati italiani avevano però dimostrato una assoluta inconsistenza. Uno era Firenze che al passaggio di Carlo VIII aveva espulso i medici, i suoi signori tornando al regime repubblicano mentre Pisa le si ribellava e iniziava una guerra che sarebbe durata per 15 anni fino al 1509. La lotta interna indeboliva inoltre ulteriormente la Repubblica ai sostenitori dei medici, detti Palleschi e a quelli della tradizione comunale, detti gli arrabbiati si opponevano i fautori di Girolamo Savonarola un frate domenicano ferrarese che predicava la riforma morale della Chiesa e un'austera democrazia politica a Firenze e che perciò erano detti piagnoni. Il Papa Borgia, Alessandro VI colpito in particolare dal frate ferrarese per i suoi costumi e per la sua politica familiare ne invocò la condanna che sopravvenne per le lotte interne fiorentine nel 1498 dopo tre anni in cui la vita della città era sembrata dominata dalla spinta di riforma morale e religiosa e dagli impulsi popolari della politica savonaroliana. L'altro Stato italiano che la discesa di Carlo VIII aveva messo in ginocchio era Napoli conquistata da lui praticamente senza combattere col gesso, come si disse, ossia col semplice segno del gesso sugli edifici e le case requisite per gli alloggi dell'esercito invasore. Soprattutto però, nonostante le precauzioni prese da Carlo VIII gli stati europei si erano rivolti contro di lui ebbe inizio così un infittirsi dei rapporti politici e militari fra loro che non si interruppe più e andò anzi determinando nel tempo un quadro sempre più interconnesso e complesso della politica europea. Era nato cioè il sistema moderno degli stati europei ed ecco perché abbiamo detto che solo all'apparenza dopo la discesa di Carlo VIII in Italia la situazione sembrava ristabilita e non lo era affatto. La questione italiana dominò il neonato quadro europeo fino al 1529. La Francia aveva provato a se stessa con l'impresa di Carlo VIII di avere le forze per una grande politica espressionistica e tutti pensavano che nel contesto europeo essa rappresentasse una grande superpotenza anzi la superpotenza per definizione. Specialmente l'Aragona, già da due secoli presente in Sicilia e in Sardegna era interessata a queste mire francesi sia per i comuni confini sui Pirenei sia per la sua posizione in Italia dalla quale la Francia se avesse acquisito una posizione dominante nella penisola avrebbe conseguita anche una posizione di primato in Europa. Queste considerazioni spinsero il re d'Aragona Ferdinando il Cattolico ad allearsi con Luigi XII successore di Carlo VIII per conquistare insieme e dividersi il regno di Napoli anziché lasciarlo conquistare soltanto alla Francia. Luigi XII modificò peraltro i piani di Carlo VIII la cui spedizione aveva dimostrato la difficoltà di condurre una nuova spedizione nell'Italia del Sud senza avere una salda base nell'Italia del Nord. con una nuova discesa francese in Italia ebbe inizio così nel 1499 la lunga fase calda delle guerre d'Italia come furono dette nel loro complesse quelle che furono combattute come ho detto fino al 1529. Possiamo distinguere due periodi di queste guerre dal 1499 al 1516 il primo dal 1516 al 1529 il secondo. Protagonista del primo periodo fino al 1516 è indubbiamente la Francia alleata con Venezia essa conquista Milano e nel 1501 alleata questa volta con Ferdinando il Cattolico conquista, secondo l'intesa a cui ho accettato prima il Regno di Napoli. La divisione del Regno di Napoli con gli Aragonesi non si dimostrò però possibile. Nel 1503 gli Aragonesi conquistarono tutta l'Italia meridionale spellendone i francesi sicché nel 1505 la pace di Bluat sancì questi risultati. Milano a Luigi XII Napoli a Ferdinando il Cattolico. Negli stessi anni si svolgeva un altro atto importante di questo periodo. Cesare Borgia figlio del padre figlio del papa Alessandro VI tentava con l'appoggio paterno di ritagliarsi una grande signoria nelle terre pontifice della Romagna e delle Marche schiacciandovi col pretesto di ripristinarvi il potere del papa i molti signori che vi avevano affermato la loro posizione. La grande spregiudicatezza del Valentino come era chiamato Cesare Borgia in quanto era duca di Valentino un titolo datogli dal re di Francia la sua grande spregiudicatezza dicevo entusiasmò il Machiavelli che vide in lui uno dei modelli del suo principe ma con la morte di Alessandro VI nel 1503 lo stesso Cesare Borgia vide crollare la sua fortuna. Il nuovo papa fu Giulio II ed egli inaugurò un terzo atto del dramma italiano mirando a ricostituire in tutta la sua autorità il potere pontificio nello stato della Chiesa costrinse infatti alla fuga il Valentino sottomise città importanti del suo stato come Bologna e Perugia che si erano ridotte a uno stato di pratica indipendenza e soprattutto prese l'iniziativa di una grande lega la lega di Cambrai con altri stati italiani con i francesi gli aragonesi e l'imperatore Massimiliano I d'Asburgo contro Venezia che attentava come si è detto alle terre pontifice della Romagna Venezia era indubbiamente il più potente degli stati italiani e da due secoli si era andata costituendo un grande dominio in Veneto e Lombardia che mirava continuamente ad ampliare sconfitta ad Agnadello nel 1509 Venezia poté salvare con una grande prova di forza politica ciò che possedeva ma dov'è ridimensionare drasticamente le sue mire espansionistiche un altro stato italiano cioè perdeva importanza dopo Firenze dopo Napoli dopo Milano il bilancio italiano cominciava a farsi pesantissimo ostacolato dai francesi nella sua ricostituzione dello stato pontificio Giulio II promosse contro di loro nel 1511 un'alleanza la cosiddetta Lega Santa con l'Aragona con Venezia che aveva prima combattuto con l'Inghilterra e con gli svizzeri i francesi pur vittoriosi nella grande battaglia di Ravenna del 1512 dovettero abbandonare Milano mentre i medici tornavano a Firenze morto poi Giulio II fu eletto Papa proprio un medici Leone X e nello stesso tempo a Luigi XII succedeva in Francia Francesco I e appunto Francesco I il nuovo re di Francia portò il suo esercito ancora una volta in Italia e con l'aiuto di Venezia riconquistò Milano si giunse allora alla pace di Noaillon nel 1516 la Francia ottenne Milano gli svizzeri il canton Ticino gli Aragonesi Napoli Venezia alcuni porti pugliesi e il Papa conservò Parma e Piacenza che Giulio II nel 1511-12 aveva guadagnato a Roma il secondo periodo vide un radicale mutamento della scena i superstiti stati italiani Venezia Firenze Roma avevano un ruolo ormai subalterno non solo nel quadro europeo ma anche nel quadro italiano contro la Francia non si trovava ora però più soltanto l'Aragona ma anche l'altro reame iberico di Castiglia ossia in pratica quella che poi come vedremo sarà la Spagna moderna i due reami spagnoli erano già stati avvicinati dal matrimonio di Ferdinando d'Aragona con Isabella di Castiglia i rei cattolici morta Isabella nel 1504 dopo varie vicende Ferdinando aveva assunto anche il governo della Castiglia morto lui nel 1516 gli successe il nipote Carlo d'Asburgo come re di Castiglia e di Aragona e Carlo alla morte dell'altro nonno Massimiliano prima d'Asburgo nel 1519 fu porto sovrano del sacro romano impero quinto del suo nome Carlo V torneremo in un'altra lezione in una prossima lezione su questa grande concentrazione di potenza tanto più che per allora l'opinione europea riteneva ancora la Francia il maggiore pericolo per l'equilibrio continentale la sistemazione raggiunta con la pace di Noaillon appariva perciò insoddisfacente sia a Francesco I che a Carlo V per di più come nipote per parte di madre di Maria di Borgogna Carlo V rivendicava contro la Francia il possesso del Ducato di Borgogna di cui Luigi XI il padre di Carlo V si era impadronito nel 1477 lasciando a Maria solo la parte di esso denominata Franca Contea di Borgogna e infine nel 1517 era cominciato in Germania il movimento protestante sul quale ugualmente dovremmo ampiamente intrattenerci nelle prossime elezioni nel 1521 ripresero le ostilità Carlo V in alleanza con gli inglesi e i veneziani potè prendere Milano che fu restituita a uno sforza tornata all'offensiva la Francia di Francesco I costrinse l'esercito spegnolo a chiudersi in pavia che egli cinse di assedio ma fu proprio sotto le mura di pavia sotto le mura della città Lombarda che sopravvenuto un altro esercito di Carlo V Francesco I preso tra l'esercito assediato e l'esercito sopravvenuto dei suoi nemici subì non solo una grande disfatta una delle maggiori sconfitti francesi di tutti i secoli ma venne addirittura preso prigioniero portato a Madrid dovea accettare nel 1526 un pesante trattato col quale riconosceva in sostanza a Carlo V Napoli Milano e la Borgogna fu così liberato aveva però firmato il trattato di Madrid con la riserva astuzie della diplomazia con la riserva della sua registrazione della registrazione di questo trattato da parte del Parlamento di Parigi ossia da parte della Suprema Corte Giudiziaria Francese la registrazione naturalmente non vi fu e la guerra ricominciò questa volta era chiaro che la maggiore potenza europea era la Spagna la vittoria di Pavia non lasciava assolutamente abito a dubbi da questo punto di vista mentre a Carlo V passava uno dei massimi esponenti per giunta della potenza francese della potente aristocrazia francese e cioè Carlo di Borbone gli stati italiani Venezia Milano e Roma mentre Firenze dove di nuovo nel 1527 furono espulsi i medici tornati nel 1523 sul trono pontificio con Clemente VII dopo la morte di Leone X nel 1521 seguirono allora la Francia e l'Inghilterra nella lega di Cognac da principio gli italiani agirono da soli ma non poterono impedire che un esercito imperiale al comando proprio di Carlo di Borbone discendesse l'Italia fino a Roma che il 5 maggio 1527 fu presa di assalto seguì un orribile sacco della città pontificia reso più fiero dai sentimenti protestanti antipapali delle truppe imperiali il Borbone morì nell'assalto Papa Clemente VII pote scampare dall'assedio in Castel Sant'Angelo solo grazie a un accordo occulto con gli imperiali quando i francesi decisero di condurre con maggiore impegno la guerra in cui avevano lasciato soli gli italiani fallirono completamente un loro esercito riuscì a scendere nell'Italia meridionale ad assediare Napoli ma fu disfatto da una grandissima epidemia di peste mentre la flotta genevese che li aveva aiutati in questa spedizione cambiava campo perché dal 1528 in poi Genova si schierava sotto l'impulso di uno dei suoi maggiori uomini dei maggiori esponenti della sua aristocrazia Andrea Doria si schierava decisamente a favore di Carlo V e della Spagna quindi si giunse così nel 1529 alla pace di Cambrai Carlo V rinunciava a rivendicare la Borgogna la Francia venne completamente esclusa dall'Italia Milano fu ancora una volta data a uno sforzo che fu Francesco II Venezia perse i porti pugliesi che aveva guadagnato nella spartizione del regno di Napoli fra Ferdinando il Cattolico e Luigi XII nel 1501 e che successivamente aveva perduto ma aveva di nuovo riconquistato l'Inghilterra ottenne un grosso indennizio finanziario per l'aiuto prestato alla Francia il Papa conservò Parma e Piacenza come ho detto già conquistate dallo Stato Pontificio durante il papato di Giulio II con Papa Clemente VII Carlo V si accordò l'anno seguente 1530 a Bologna per la verità si era già incontrato col Papa a Barcellona nel 1529 aveva lì raggiunto sostanzialmente gli accordi che poi furono esplicitati e formalmente tradotti in pratica a Bologna il Papa lo incoronò imperatore ultima questo va sognalato come curiosità storica ultima coronazione di un sovrano del sacro romano impero per mano di un pontifice l'imperatore accettò di restaurare i medici in Firenze che cadde dopo un assedio di vari mesi e nominò Alessandro dei medici a cui fu data in sposa la sua figlia naturale Margherita d'Austria duca di Firenze nuovo episodio quindi di questo tipo di politica familiare che abbiamo visto praticato dal Papa Alessandro VI Borgia nei confronti del suo figlio Cesare Cesare Borgia il Valentino e che nel caso dei due Papi Medicei Leone X e Clemente VII appare ancora più evidente la Spagna si poneva ora chiaramente come grandissima potenza europea tanto più che Carlo V cingeva anche la corona imperiale che per quanto elettivo da un secolo era sempre appannaggio degli Asburgo inoltre dopo la scoperta dell'America un grande impero spagnolo andava formandosi nel nuovo mondo nello stesso tempo però un'altra grandissima potenza si era andata formando nel Mediterraneo orientale dove dopo la conquista di Costantinopoli nel 1453 gli ottomani avevano proseguito la loro azione espansiva specialmente sotto il sultano Solimano non a caso detto il Magnifico che regnò dal 1520 al 1566 varie regioni del Caucaso la penisola arabica la Siria l'Egitto l'isola di Rodi vari possedimenti veneziani nell'Egeo e nello Ionio l'intera penisola balcanica furono ridotte sotto la sovranità turca nel 1526 fu sconfitto il re d'Ungheria Luigi nella battaglia di Moax e anche questo paese passò per quattro quinti in mano dei turchi due volte anzi nel 1529 e nel 1532 fu attaccata addirittura a Vienna e questa dalla misura della penetrazione dei turchi degli ottomani nel cuore dell'Europa centrale inoltre i principati musulmani di Tunisia e d'Algeria principati che erano detti barbareschi per la popolazione berbera che ne era gran parte i principati dicevo musulmani di Tunisia e d'Algeria riconobbero anch'essi la sovranità del sultano di Costantinopoli che si spingeva così anche nel Mediterraneo occidentale acquistandovi forze e basi navali preziose anche perché nonostante la conquista e il possesso spagnolo di alcune piazzeforti nordafricane i barbareschi svolgevano una micidiale azione di pirateria di incursione di razzia di cui soprattutto l'Italia meridionale e la Spagna mediterranea soffrivano gravemente e cronicamente l'impero turco si delineava perciò come una grandissima potenza militare per mare e per terra che non poteva non far sentire il suo peso come infatti accadde e lo vedremo nelle lotte di potenza in Europa potenza equivalente fuori del mondo europeo e mediterraneo agli inizi del 500 poteva essere considerata in effetti soltanto la Cina che dal 1368 era sotto la dinastia dei Ming Ming vuol dire la luce ai quali fu dovuto lo spostamento della capitale a Pechino e la definizione della grande muraglia a protezione delle frontiere del nord contro i nomadi turco-mongoli al di là dei confini cinesi nonché il collegamento di Pechino con il grande canale che metteva in comunicazione i bacini del fiume giallo e del fiume azzurro e quindi le comunicazioni tra il nuovo centro politico insediato a Pechino e le regioni più produttive del paese che si trovavano nella sua parte meridionale i Ming favorirono inoltre come non era nella tradizione cinese le esplorazioni marittime che giunsero attraverso l'oceano indiano fino al Mar Rosso e che però per la verità non ebbero mai il carattere economico e come abbiamo visto con Cristoforo Colombo anche scientifico di quelle europee tanto che nessuna comparazione è possibile da questo punto di vista tra le esplorazioni e le scoperte geografiche europee e le corrispondenti attività cinese e del resto questo emerge chiaramente anche dai risultati molto diversi delle prime molto diversi e superiori delle prime cioè di quelle europee rispetto a quelle cinese isolato viveva il Giappone nella sua struttura feudale benché in intensi rapporti economici e non solo economici con la Cina nello spazio indiano il sultanato musulmano di Delhi si era molto indebolito e se ne erano staccate varie ragioni tra cui il Bengala nella parte hindù dell'India fiorivano vari regni regionali senza grande importanza al di là appunto del loro contesto regionale in Persia invece l'impero fondato da Tamerlano fra il 300 e il 400 fu rovesciato dalla nuova dinastia dei Safavidi agli inizi del 500 che andavano via via ricostituendone il potere nell'Africa a sud del Sahara organizzazioni politiche simili non sembrano potersi riscontrare nelle ignorate Americhe invece due grandi poli di potenza politica dominanti su vaste aree e su molte popolazioni erano agli inizi del secolo XVI ancora in grande fioritura e cioè gli Aztechi nel Messico e gli Incas nel Peru e nelle regioni vicine questo è il quadro del mondo extraeuropea in cui come ho detto solo la Cina si configura come una grande potenza della portata degli ottomani nel Mediterraneo e della Spagna nello stesso Mediterraneo e in Europa e però e quindi in generale in nessuna parte del mondo si nota agli inizi del Cinquecento salvo sempre come ho detto in gran parte la Cina lo stesso impulso dinamico che contraddistingue l'Europa e questo è un dato di fatto che come vedremo nelle prossime lezioni avrebbe avuto una enorme importanza nella storia del mondo e che può essere anche una buona conclusione per la lezione di oggi grazie a tutti Grazie a tutti.